Salve ragazzi, benvenuti in questo vlog. Ragazzi voglio parlarvi di una cosa molto difficile per me. Allora, io sto pensando di dare dentro la mia Xbox 360 e ci ho pensato abbastanza bene. E vorrei sapere la vostra opinione perché tutti i giochi che ho degli Xbox, che vi farò vedere, insomma tutti i giochi degli Xbox che ho, la maggioranza posso riprenderla per la Xbox 360. Tranne alcuni giochi che sono i giochi di Gears, però mi sembra che c'è il remake sulla PS4, poi c'è Halo 3, che purtroppo non è sulla PS4, né sulla PS3. E poi ci sono anche i giochi di Naruto, Rise of Ninja e Naruto The Broken Broad, che mi è piaciuto moltissimo. Ecco, io perderei questi giochi che non li potrei mai più giocare. Quindi, secondo voi, raga, nonostante questa cosa dovrei dare dentro l'EastBot 360 o no? Ditemi la vostra opinione, che la voglio sapere. Ciao.